Nel pomeriggio del 22 luglio a Torino, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nell'ambito di un'attività di indagine delegata della Procura della Repubblica, hanno arrestato un 59enne di condove e sottoposto a fermo un 57enne di Torino, imprenditore, per usura. I due, dall'anno 2015 a oggi, fronte di prestiti di denaro per complessivi 57.000 euro, hanno preteso, ottenuto dalla vittima un imprenditore torinese, anche mediante atti di violenza e minaccia, il pagamento di 202.000 euro, quali crediti usurari. La vittima si rivolte ai carabinieri per denunciare la sua difficile situazione e i militari hanno organizzato un servizio di osservazione e intercettazione in occasione di un incontro fissato dagli usurai con la vittima. L'incontro e lo scambio di denaro è stato fissato a Collegno sotto controllo dei carabinieri, dove è stato arrestato il 59enne, dopo che quest'ultimo aveva ricevuto dall'imprenditore 230 euro. Poi recuperati e sottoposti al sequestro. Contestualmente, l'esecuzione dell'arresto è stato fermato anche l'altro, che è stato l'intracciato a Torino, in via Sinari di Bernezzo, e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Successivamente, durante ulteriori perquisizioni, è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 14.000 euro.